Signor Lavezzini, un bel successo per la sua squadra che la riporta in una zona un po' più tranquilla. Partita difficile, partita che probabilmente forse meritava la divisione della posta, però il calcio è fatto così. Avete rischiato di prendere un gol tre minuti dalla fine e poi all'ultimo minuto la incornata di Andreotti vi ha dato i tre punti. Penso che lei abbia detto benissimo perché questa era una partita giocata bene, penso, da tutte e due le squadre e diciamo che l'episodio ha deciso la partita. Ci siamo ripresi quelli che domenica non meritavamo di perdere, abbiamo perso, però devo dire la verità abbiamo giocato contro una squadra che gioca un buon calcio, che non la butta mai via. Noi ci eravamo organizzati per giocare la partita un po' così, un po' chiusi, perché purtroppo avevamo bisogno dei punti, dovevamo tornare a casa, con la vittoria è bene, però mi bastava il punto per capire che noi siamo una buona squadra, molto giovane, però ripeto, oggi è stato l'episodio che ha deciso la partita, la vostra squadra ha giocato molto bene, una squadra esperta, una squadra tecnica, un po' di fortuna penso che ci voglia, noi oggi abbiamo avuto quella fortuna che ci è mancata domenica col Prato. Mister Rilli, le soste non portano fortuna alla Marignanese Cattolica, oggi è una partita che potevate chiudere e invece l'hanno chiusa gli avversari. Però d'altronde questa è la partita, io dico sempre che quando non riesci a portare a casa quello che vuoi, che è la vittoria, devi avere la capacità di capire le situazioni e portare a casa quello che puoi portare a casa. Purtroppo abbiamo regalato secondo me un tempo, il primo tempo sinceramente c'era questo timore, questa paura, questa non tranquillità rispetto a quello che ho visto a San Mauro. Detto questo, però il secondo tempo mi sembra che siamo partiti in maniera diversa, abbiamo creato i presupposti per fare diverse volte il gol, abbiamo rischiato qualcosa ma è normale in una partita di calcio, però a quel punto te la devi portare a casa. Avevo detto ai ragazzi, è la seconda volta che glielo dico, l'avevo detto a Corticella, glielo ho detto oggi presentandolo come esame di maturità per vedere, naturalmente contestualizzando i due momenti. Corticella venivamo da tre partite buone, però pochi punti. Venivamo da quattro risultati utili consecutivi dopo una grandissima vittoria a San Mauro. Evidentemente questa squadra ancora non è pronta, non siamo pronti per fare questo saltino, perché oggi l'esame di maturità è anche questo, non la puoi vincere ma non la perdi. Invece è successo questo e devi rincominciare, non dico da capo perché sono passate sette partite, però oggi è una botta, è una battosta e vediamo tutti noi come la metabolizziamo e come ripartiamo martedì.